Basta, sono sempre il crewmate! Eh, io... Sei l'impostore di nuovo? No, io sono il crewmate, sono il crewmate. Chi seguiamo adesso? Seguiamo Stef? Arriviamoci con Fere. No, Fere è da sola, non possiamo lasciarla così. Adesso vedi che è l'impostrice. In quel caso è un problema. Siamo tutti qua. Io non ho questa missione, però. Vabbè, tu stai qui, ora... Ok, Stefo se n'è andato. Benissimo. Le guardie del corpo di Fere abbiamo... Anche Stef è da sola perché hanno divorziato. Aspetta che ho questa missione qua. Tu stai a sinistra e io sto a destra. Eh, ma c'è un intruso. Eh, c'è un po' troppa gente qua. Ho le stesse missioni di Fere, tra l'altro. Qualcuno fa la chi qua, sicuro. Eh, sì. Decisamente. Dino, non ho nessuna missione vostra. Anche se ci fosse solo una chi lì, poi non riesco a capire nulla. No, andiamo con Fere. Ma dove va, Fere? Qualcosina lo faccio, dai. Quello che c'è lo faccio. Eh, ma qua esplodia. Senti, mi allontano. Se muoio, sappi che ho esalato l'ultimo respiro per te. Ok, a posto. Vieni, vieni, Fere, saranno giù. In admin. Viste erano Mark e Steph lì, eh. Vieni, vieni, Nico. Ok. Ma c'è un attimo, faccio. Ma, perché Steph è qui? È uno ship shifter, quello che c'è da sopra. Mmm, forse era che è andato. Sono così stupido di non averlo riconosciuto. Andiamo giù, andiamo con Fere. Oddio, mi avete abbandonato, mi avete abbandonato. Ok. Siamo qua, siamo qua. Siamo qua. Siamo qua a fare questa missione, solo che ho paura di Steph. Io cosa faccio? Vado da Fere, eh. Ok, l'ho fatta. Arrivo, dove siete? Ho perso Fere. È sotto, sotto i storage. Dove butti giù le foglie? Che l'ho. Eccoci qua. E se Fere è l'impostore ed è per quello che non fa le kill? Ma no, sta facendo troppe quest. Dici? Però effettivamente è strano che non abbia... Eh no, invece no, invece no. No, è bene. Ciao. Ai, 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 quanti guai in Paraguay. Quindi io stavo guardando. Ogni volta che muoio la gente non vota chi deve, quindi ormai... Io e Nico abbiamo deciso di unirci a Fere comunque, volevamo dirvi sta cosa. Grazie, è già diventata una situazione dei single. Io ho ufficio, ma chi è stato? Noi sappiamo chi è stato. L'ho visto l'ho colto in flagrante. È inutile che dici chi è stato? Io voto dei Marc a prescindere, dai. Marc? No, 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 aspetta Kendall. Io non ero qui. No, 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 era con Fere. No, 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 ce lo shape shift. No, no, ce lo shape shift, è vero. Ce lo shape shift, è vero. Fermo. Ragazzi, con Fere non c'era, ma mi è Marci. È vero, non c'era Marco. Non c'era Marco con noi, eh. Raga, ero con Fere un secondo fa. No, non c'era. Ma raga, mi ha detto anche Fere che ero con lei. Non è vero, non è vero, non è vero. C'è lo shape shift? No, raga, non lo so se... Lo shape shifter si era trasformato in Steph comunque, secondo me. Qualcuno si è trasformato in Mark o era Mark e ho ucciso Steph di fronte ai miei occhietti. Ai 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 ai. Il problema è che questo Mark era Mark già da un bel po' di tempo, perché io l'ho seguito per tipo 30 secondi. Io l'ho seguito da un'ora. Bisogna capire quanto dura. 30 secondi, tifo. Non lo so. Eh, allora... Fere, tu cosa ci puoi dire? No, ragazzi. Vediamo, proviamo, Mark, mi dispiace. Non ci ho fatto caso, sinceramente. Nel chilling, raga, ero io. Era lui. Non era lui, secondo me. Non era lui. No, sì, ero io. No! No! Lo sapevo. Ragazzi, però avete giocato in cinque, in una tasca. Cioè, ma io cosa devo fare? Non ha accettato la separazione, ragazzi. No, no, non ha accettato la separazione, ho notato. L'avvocato migliore del mondo, Kendall. Ma cosa? Che hai imparato oggi a giocare? Ma in quanto ti ho salvato le chiappe a Steph? Sono morto lo stesso, in realtà però... Ma ora sei rinato. L'importante è quello. Sì, 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 facciamo l'ultimo, facciamo l'ultimo. Sperando di essere l'impostore stavolta. Ti prego. Almeno te, almeno te, almeno te. O io te. No, ma, se l'ho fatto troppo. Io! Sono io, sono io, l'ultima, non ci credo. Eh no, ho urlato. Marco mi sgama subito. Lo uccidiamo, l'ultanta si sono separati. Eh guarda, è andato da solo, è andato da solo. Andiamo. Eh però aspetta, non possiamo farci vedere così vicino a lui. C'è Carly che ci ha palesemente visto. Facciamo le missioni di Carly. Io ce l'ho davvero le missioni di Carly. Dovresti... Andiamo giù, 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 giù. È qua Marco. Eh non posso ucciderlo. Puoi shiftare e ucciderlo. È come chi? No, no, ancora no. È andato troppo tardi. Ora lì è da solo, ora lì è da solo. Lo faccio adesso? Vai. No aspetta, e dobbiamo beccare in un punto in cui non passi gente. Facciamo finta di non andare da Marco? Non ho manco visto dove è andato Marco. Sopra. Ora, vieni con me. Vieni, vieni con me. Fallo ora la shape. Oppure... No sì, fallo... Non ti sei shape. Fai la luce, 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 andiamo giù alle luci. Ok, come si fa? Sabottaggio? È vero, c'è luce! Spegni la luce! L'ho spenta, l'ho spenta. Sono all'elettrica, non uccidermi gentilmente. C'è qualcuno? No, sta arrivando caprotto. Continua a dar fastidio. Dai, continua a dar fastidio. Io chilo a casa. Eh, però ora lo sta capendo che sto infastidando, devo attivarle. Al mio 3, 1, 2, 3, attivo. Eh no, non potevo. Non potevo fare niente. Ah no, l'avete fatte. Eh no, sono confuso. Attendile tu, accendile, accendile. Così abbiamo un alibi anche. Ok. Dobbiamo andare ad accusare Kendall. Perché Kendall? Eh perché manca solo l'uomo in elettrica, o Steph. No, rimaniamo con loro, rimaniamo con loro noi. Sì, così abbiamo un alibi, stai qua. E niente, questa è la giornata. Mi dice che devo uccidere Carly, cioè. C'è proprio qualcosa su Carly all'ucilento. No, 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 c'è troppa gente, c'è troppa gente. Ora non è il momento. Stanno uscendo tutti però, dobbiamo seguire con loro. Dove sei? Andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo da Carly. È tutto così confuso. Sto andando su, trova il cadavro probabilmente. Eh, fa niente, io vado di qua. No, no, se si dividi ora ti scopri. Dobbiamo stare con lei ora. Dovresti cambiare forma e fare una kill davanti. Oh, no, c'è Stef, non ora. Ok. Però te la scuro Marco. Provo ad accusare Stef. Proviamo ad accusare, vediamo cosa succede. Funzione. Oh, Stef. Raga, ma lo facciamo giocare oggi? Non ce la fai proprio, eh, tenerti un ragazzo o una ragazza per 25 minuti. No, 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 ma io ero mai su un single, quindi finché non muoio io va tutto bene. Allora, io su Stef posso dire che è safe. Chi ha trovato? Perché dici che è safe Stef? Perché abbiamo fatto delle missioni insieme e ci è voluto il tempo esatto che ci ho messo anch'io. Eravamo insieme a fare i dolori. Fere e Carly, eravamo in elettrica e salendo. Ah, scusami, non siamo le amanti, ok, scusami. Un quarto. Oh, è arrivato il Kerry Royce. E c'era il cadavere sopra in caffetteria, non so quanto tempo fa sia morto, ma mancano Stef e Kendall all'appello. Ai, ai, ai. E Kendall manca in tutti i sensi perché è andata a prendere il Kerry Royce. No, no, io scaggionerei Kendall, ragazzi, perché era troppo tranquillo. Di solito si esalta quando l'imposso. Quindi è Stef? Stef, ho delle domande da farti. Mi dici un po'. Quando Carly parte così mi fa morire. Mi fa già delle domande, tanto mi vuoto a priori poi guarda come rispondo. Difenditi, avanti, hai otto se potete per difenderti. No, tanto, sono già stato ucciso fin troppe volte oggi, ormai sono ai muri. Io ti muozi, io ti muozo. Non è Stef, non è Stef. Non è Stef, è che è andato. Ma che io? È Kendall. Ma che secondo me è Kendall? Ragazzi, mi ha detto che era tranquillo. Raga, per me è Kendall. Io ho schippato quando ho detto così, Carlo. Perché non l'ha stato ucciso. Prima eri in ansia, non vedi che prima eri in ansia quando ha fatto l'impostore. Ma sì, ma io non so mentire. Visto che ti ho fatto fare la giocata. Mamma mia, chi uccidiamo? Allora, tu devi tenere un low profile, quindi piuttosto diventa me. E cosa faccio, uccido te? No, no, non uccidermi con me. No, dico uccido con te. Andiamo in elettrica, andiamo a vedere in elettrica chi c'è. Però, non lo so, dovresti fare un sabotaggio. Eh, però che non c'è nessuno. Sempre luci farei. Facciamo sempre le luci. Però non è antisgamo. Vabbè, dai, si fa i luci. Mi metto. Provo ad essere un po' da solo e provo a riportare io il corpo. Tu rimani sempre all'uomo file. Io rimango qua. Ma faccio una chi qua? Eh, saremo uno da solo, quasi quasi. Un quarto in più non ci fa schifo. Ok, me ne vado via con l'avente. Eh, ma io che faccio mo'? Vai in elettrica a fare il cadavere. Io sono le telecamere. Eh, ma siamo finiti. Chi l'ha preso? L'hai preso te? L'hai fatto te? Dica. Io ero a telecamera, ragazzi. Eh, volevo camperarmi la telecamera. Io ero a fare la tessera. Ti ho visto entrare. Io sono in elettrica per fixare le luci. Le ho fixate e dietro di me è morto Steph. Ai ai ai. Però non so chi si è entrato in quel momento. Posso dire una cosa anche se sono morto? Adesso che avete ucciso Steph, chi me li dà i 5 euro a me? L'impostore te li dà. Allora io e Marce eravamo organizzati. Lui stava alle telecamere, così che vedesse. E io attaccavo le luci. Io l'unica persona che ho visto, l'unica persona che ho visto è stata Fieri che entrava in admin e basta. Ah, quindi? Cosa vorresti dire con ciò? E Carli, dove eri? Bella domanda, dove eri? Io non so chi votare. Ah, ho preso il Carey Rise, scusami. Nico non mi hai tradito, vero? Ok. Nico non mi hai tradito, non stai facendo il video del tradimento, vero? No, Nico ha troppo fortuna, ha troppo fortuna. Chi voto? E' un po' titubata la mia risposta. Ma non sono titubata. No, guarda, stai sbagliando, Carli. Nico, se non è lei, se non è lei mi arrabbio. Rega, ma che fate? Non hai nascosto bene il coltello, sgambata. Ma che stanno aggiungendo un paramico? Allora, se non è Carli, Nico sta facendo il video del tradimento, sicuro. Ma che c'entro io? No, no, guarda, guarda, quando Nico risponde così... Ecco, lo sapevo. Dai, Nico, ma devi tradirmi adesso, ma scusa. Ma perché? Ma non mi ha senso. Dai, ragazzi. Io faccio l'emergenza e ti voto. Ma perché? E' un po' fermi. Eh sì, 19 secondi. Guarda. Mi faccio partire all'emergenza. Siamo qua tutti fermi? Eh, mi sa di sì. Eh, mi sa di sì. Ma non, scopo che spada il reattore, guarda. No! Dai, hai fatto le luci, bro! Non scogliato, che cosa? Però, cavolo, se la stava giocando bene. No! Accidento! Low profile! Polpo di scena! Polpo di scena! Eh, ce la sono giocati apposta così, là. Ma scusa, ma tu che hai ucciso da ShapeShiftato? Io non ho visto come sono morto. E... Sei stato espulso. No, sei stato espulso. L'ho buttato fuori. È vero, mi mi scato. Io ho ucciso solo Marco perché ho urlato Raga, sono io, sono io! E ho detto, quello mi avrà sicuramente sentito. E lo abbiamo ucciso. E poi solo Steph. Ecco! Che eff... E l'ho buona